Vandakeru ha deciso di acquistare questo negozio circa due anni e mezzo fa, quando ci siamo un po' resi conto che l'affitto che pagavamo nel negozio attuale di Piazza Fiera era effettivamente molto elevato e non ci permetteva di investire ulteriormente nel commercio acqua e solidale. Per cui abbiamo pensato di cercare un immobile che in qualche maniera potesse permetterci di avere la nostra casa, la nostra casa per sempre, speriamo. Siamo in questo bellissimo negozio con una superficie di circa 250 metri quadri per quanto riguarda il piano superiore. Il negozio è diviso in zone, abbiamo una zona dedicata all'abbigliamento, una alla casa, una agli alimentari, un'altra zona dedicata alle ricorrenze e una al mondo del benessere, del benessere inteso come cosmesi naturale e biologica. L'obiettivo è chiaramente quello di farci conoscere anche da chi ancora non è entrato nel nostro negozio, di trasmettere quelli che sono i valori del commercio acqua e solidale che si racchiudono proprio nei prodotti che qui vendiamo. Dietro un abito, dietro una tazzina, dietro un prodotto alimentare, ci sono dei principi, ben saldi che noi portiamo avanti da molto tempo e che garantiscono alle persone che lavorano per noi un salario eco, una parità di salario tra uomo e donna, un anticipo per quanto riguarda il compenso che viene poi dato ai nostri produttori per realizzare i nostri prodotti e quindi una maggiore giustizia per quanto riguarda anche la realizzazione di quelli che sono gli obiettivi stessi dei nostri produttori, che molte volte sono semplicissimi avere la possibilità di mandare i figli a scuola piuttosto che impiegare le donne nei lavori in maniera che possano comunque contribuire al reddito familiare, dare condizioni di vita migliori. Questi obiettivi che non portiamo avanti da molto tempo, ci sentiamo proprio di sentirli nostri e di poterli trasmettere anche a chi ancora non ci conosce. Grazie a tutti.